Abbiamo scoperto che su un progetto in particolare, quello che riguarda il Lungomare Nord e Sud, 2 milioni e 90 mila euro il finanziamento avuto dal PNR del Comune di Pescara, in realtà questi fondi arrivati sono stati utilizzati per incaricare progettisti su un progetto di forme rispetto a quello sottoposto a finanziamento e finanziato. Non usano mezzi termini il consigliere regionale Antonio Blasioli, che insieme ai consiglieri comunali di centro-sinistra parla di progetto stravolto rispetto allo studio di fattibilità che ha determinato il finanziamento. Una variazione unilaterale che, secondo chi denuncia, rischia di comportare la revoca del finanziamento. Il rischio è molto evidente perché sono stati eseguiti lavori e progettazioni su progetti non finanziati. La prima comunicazione del Comune di Pescara al Ministero di una variazione del progetto, peraltro senza risposta di autorizzazione, è avvenuta il 22 luglio. C'è una precisa volontà politica del Sindaco che, in più dichiarazione sulla stampa, aveva annunciato alla città che quei lavori servivano per far fronte al Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è passato il 17 di maggio nella città di Pescara. Lavori eseguiti precedentemente. Delibera determina di affidamento di questi lavori, ancora una volta spezzettati a tre ditte, del 24 di maggio. Ci sarà un'interrogazione comunque in Consiglio Comunale? Al pari di quella su Via Marconi, anche questa sarà oggetto di un'interrogazione dei consiglieri comunali.